E' santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai Suoi discepoli e disse, prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la ceda, allo stesso modo prese il calice e rese grazie, lo diede ai Suoi discepoli e disse, Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede E' santo, fonte di ogni santità, perché diventino per voi e per tutti in remissione dei peccati. MISTERO 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 Grazie a tutti. 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 Buona serata. Buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.